a un numero di morti così elevato anche rispetto ad altri paesi? Per una ragione strutturale sulla quale a lungo hanno discusso i nostri scienziati, i nostri tecnici ed è legata a due elementi fondamentali. Il primo è che abbiamo tra le popolazioni più anziane del mondo e questo per certi versi è un fatto positivo perché significa che le persone vivono di più e senz'altro anche un segnale di una tenuta della nostra qualità della vita, di una tenuta persino io direi del nostro servizio sanitario nazionale, la qualità dei nostri medici, la qualità della nostra capacità di prendersi cura delle persone. Però è chiaro che avere una popolazione più anziana e noi abbiamo tra le popolazioni più anziane del mondo ci espone molto quando arriva un virus che fa male soprattutto alle persone anziane. E poi c'è un secondo elemento, che gli anziani in Italia, è vero che le persone vivono più a lungo ma molti anziani in Italia hanno più patologie insieme. E quindi c'è un incrocio, io dico molto pericoloso, tra anzianità e più patologie insieme. E questo ci sta facendo pagare un prezzo molto, molto alto. Posso aggiungere un'ipotesi, le chiedo cosa ne pensa. Le nostre RSA, le residenze per anziani, non sono ancora sufficientemente strutturate per affrontare l'epidemia, il contagio, da una parte, e dall'altra la nostra medicina di territorio non funziona da argine e manda troppe persone ad intasare gli ospedali. Guardi, la questione dell'RSA è senz'altro un tema fondamentale su cui stiamo lavorando. Io ho anche voluto istituire una commissione che si occupi apposta di questo grande tema, che tra l'altro, per dirla fino in fondo, è un grande tema europeo perché le vittime, le persone che hanno perso la vita nelle strutture per gli anziani sono un pezzo rilevante dei decessi avvenuti a livello europeo. E non c'è dubbio che su questo dovremo lavorare, dovremo investire di più, tenere standard di qualità, di efficienza più alti rispetto a quelli che abbiamo. Dovremo lavorare per investire di più su questo pezzo del nostro Paese, anche perché lì c'è la generazione che in qualche modo ha fatto l'Italia, a cui dobbiamo... Per direbbero i soldi del MES, su questo? Io penso che su questo, come su tutto il resto, servono più risorse per il Servizio Sanitario Nazionale. La mia opinione è che da qualsiasi parte vengano queste risorse sono benvenute. C'è un grande tema strutturale in Italia. Per troppo tempo si sono messi troppi pochi soldi sulla sanità e noi stiamo pagando un prezzo. E guardi, oggi stiamo facendo uno sforzo enorme. Nell'ultimo anno abbiamo investito circa 10 miliardi. Di solito in un anno si metteva un miliardo. Però non c'è la bacchetta magica. Questi soldi non si trasformano in un istante in soluzioni a problemi. Non si trasformano in medici, Ministro, perché medici non ci sono. Esatto. Questo è il problema più grande. Se me lo fa dire, perché è il tema più delicato che c'è. Perché tu sul mercato internazionale puoi comprare le mascherine, puoi comprare i respiratori, puoi comprare i camici. Non puoi comprare i medici, non puoi comprare gli infermieri, non puoi comprare il personale. E la storia dell'Italia è la storia che ci dice una verità. Per 15 anni abbiamo avuto una norma che ha bloccato la spesa per il personale sanitario a quella del 2004 meno l'1,4%. Guardi che storia incredibile. Spesso si è parlato di eroi. A me non piace questo termine. Io penso che l'Italia non abbia bisogno di eroi, ma anzi abbia bisogno di coltivare virtù antieroiche, che è esattamente quello che hanno fatto i nostri medici e infermieri. Però la retorica degli eroi quanto è lontana da una legge che è stata vigente per 15 anni e che ha bloccato la spesa sanitaria dentro una camicia di forza sul personale a quella del 2004 meno l'1,4%. Allora per questo bisogna cambiare radicalmente. Ma con onestà assoluta, questo non si fa in un istante. Non basta un decreto legge. Formare un medico richiede molti, molti anni per laurearsi... Non basta un decreto legge.